C'è che l'unda che di giorno si suda, alla notte no! E rispondereva a Picasso, io di giorno mi scasso, alla notte no! Tra in suo arbore l'orchestra italiana, ed è subito festa, il concerto ha coinvolto la piazza gremita, mettendo il sigillo alla 38esima edizione di Benevento Città Spettacolo. Dal piccolo schermo alle più belle canzoni partenopee, pronti a strizzare l'occhio ai ritmi del mondo e senza rinunciare alle canzoni della TV che hanno fatto ballare tutti. Da Luna Rossa alla vita è tutto un quiz, da Malla Notte avvengo dopo il Tg, sono volate via tre ore, fitte fitte di spettacolo. Grande coinvolgimento del pubblico come nelle intenzioni del sindaco Clemente Mastella, che contro chi lo accusa di aver snaturato Città Spettacolo tuona. Io c'ero 39 anni fa, abbiamo inventato Gregoretti a Benevento, la formula di Gregoretti, abbiamo inventato a Pietrantoni il sottoscritto a Gregoretti. La cultura di dieci persone, i fratelli, i figli, le sorelle, non mi piace, è una cosa diversa che non mi piace, non mi ha mai attratto, io sono un popolare. Renzo Arbore, 80 anni, compiuti il 24 giugno scorso, sfodera tutto il suo fascino da grande mattatore e riunisce un'orchestra davvero speciale, fino al gran finale. Grazie a tutti.